bene benvenuta benvenuto in questo video che parla di autosabotaggio cercheremo di capire insieme come come funziona e perché tutti quanti ne siamo così seduti ed affascinati in un certo senso io sono enzo celli sono un personal life coach e un counselor vivo a new york dove lavoro da molti anni e sono la persona che ti guiderà in questo percorso che parla appunto di autosabotaggio possiamo definire l'autosabotaggio come l'insieme delle azioni che mettiamo in atto più o meno consapevolmente e che ostacolano il raggiungimento dei nostri obiettivi e dei nostri scopi a lungo termine le forme di autosabotaggio le più comuni le possiamo racchiudere nell'avere paura del fallimento nell'essere incapaci di dire de no nel nella preoccupazione preoccuparsi in maniera continua avere magna di perfezionismo giudicare e criticare continuamente noi stessi e gli altri frignare è sicuramente una forma di dato sabotaggio paragonare costantemente la propria vita a quella altrui e la procrastinazione ora la domanda la vera domanda è perché diamine facciamo questa cosa la risposta a questa domanda si svolge in cinque punti primo punto è meglio a che fare con una situazione che non conosciamo anche sgradevole piuttosto che imbarcarci in qualcosa di nuovo che rappresenta l'ignoto ecco avere un successo significa necessariamente cambiare e al nostro cervello i cambiamenti non piacciono diciamoci la verità perché noi interpretiamo ogni cambiamento anche se positivo come un dispendio di risorse mentali in ogni caso quindi lato sabotaggio è un meccanismo volto a mantenerci entro dei confini rassicuranti della nostra zona di conforto due vogliamo avere il controllo c'è anche dando il 100 per cento nessuno può garantirci il raggiungimento dei nostri scopi dei nostri obiettivi esiste però esiste sempre un aspetto imprevedibile però se sabotiamo il nostro percorso possiamo sicuramente monitorare l'esito è paradossale ma il nostro bisogno di controllo ci porta a fare anche questo 3 abbiamo delle cattive abitudini non sempre sono necessari chissà quali meccanismi mentali per spiegare le nostre strategie di autosabotaggio a volte prepariamo noi stessi a fallimento solo perché abbiamo adottato una serie di abitudini negative come la dipendenza dai social come il fumo l'alcol e via dicendo 4 siamo annoiati già come visto il nostro cervello non ama cioè odia i cambiamenti allo stesso tempo però ha bisogno di tanto in tanto di qualche botta di vita insomma di qualcosa che che lo stimoli e non lo faccio annoiare ecco esistono molti modi costruttivi per stimolare la nostra mente ma spesso siamo disposti a barattare la nostra felicità futura per un effimero momento di piacere subitaneo 5 pensiamo di non meritarcelo esistono numerosi studi che mettono in relazione al tuo sabotaggio con la scherza autostima in definitiva ci prepariamo al fallimento perché siamo intimamente convinti di non meritarci nel successo nel tanto momento in una forma di felicità analizzando questi cinque punti capiamo perché è comunque così facile che tante persone cadano in un fenomeno come questo però questo che cosa significa che cosa accade per alcuni si tratta di semplici coincidenze negative per la psicosomatica c'è di più specialmente se eventi simili tendono a ripetersi quello che sto dicendo è che esiste un messaggio simbolico che arriva dal profondo e che bisogna imparare a comprendere per riuscire a venire in contatto con un'armonia di noi stessi no per riuscire ad ottenere quello quello che si vuole nella vita di certo non sono le circostanze la sfortuna o il caso siamo spesso proprio noi a boicottare inconsciamente il raggiungimento delle mete che ci prefessiamo lo facciamo attraverso il corpo con la produzione di sintomi fisici che impediscono di portare a compimento quanto apparentemente desideriamo o attraverso un atteggiamento mentale che inizia ad insinuare dubbi e preoccupazioni persistenti